La presentazione della lista con la candidatura a sindaco di Giosi Ferrandino. Giosi, allora, si è detto tanto, però credo che la prima cosa che possiamo dire è una sensazione personale. Qual è la tua sensazione e la tua emozione nel ritornare a candidarti per Casa Micciola, oggi però, dopo i noti fatti? Sì, intanto hai detto bene. Cioè, sembra quasi che per me sia la prima volta, perché provo emozione. Infatti, già nel vedere e nel abbracciare gli amici che già sono così numerosi stasera venuti qui ad ascoltarci, per me è stata un'emozione. Ed è la stessa emozione che ho provato nel 2002 quando mi sono presentato la prima volta a Casa Micciola. Questo è per lo stato d'animo. L'altro stato d'animo è la grande responsabilità che io, quando ho accettato la candidatura, mi sono assunto e che oggi porto sulle spalle perché ritengo che l'impresa per i prossimi anni sia ardua, ma ritengo anche di aver acquisito quell'esperienza, quelle competenze, quella rete di conoscenze a tutti i livelli istituzionali che oggi possono davvero essere utili al nostro Paese. Credo di avere una squadra di persone vogliose di fare, competenti, alcuni mossi da un sentimento di riscatto, anche quello importante. Alcuni nuovi, volti nuovi che si sono messi a disposizione della collettività, vogliono dare il loro contributo. Una lista perfettamente divisa tra i due generi, perché anche questa è stata voluta, non è stato un caso, per dare pari opportunità a chiunque, quindi credo che ci siano gli ingredienti giusti per affrontare questa impresa ardua, come dicevo. Perché mi sono candidato? Questa è una domanda che mi fanno in tanti. Effettivamente è stata una scelta molto sofferta, ma anche ponderata, perché oggi rivesto il ruolo di eurodeputato, sono stato avuto l'onore e l'onere di essere stato eletto per ben due volte al Parlamento europeo, quindi avevo il mio lavoro da fare, rappresentare sei regioni, quasi 15 milioni di cittadini, ma c'è stata la chiamata del mio paese. Un gruppo di amici mi ha chiesto aiuto, perché è necessario nei prossimi cinque anni di mettere in campo tutte le forze possibili e immaginabili per far risollevare questo paese che è stato sfortunato, oramai dal 2019, è successo già qualche secolo fa, ma dal 2009 con la prima alluvione, poi il 2017 col terremoto, poi la nuova alluvione del 26 novembre scorso, e beh, credo che qualunque popolo di fronte a questi eventi sovrannaturali, ovviamente, si inginocchia. Oggi Casamicciola ha un popolo inginocchio, un popolo però non rassegnato, un popolo che ha voglia di risollevarsi, come già ha fatto e ha dimostrato in passato, e quindi non potevo tirarmi indietro. E' venuta fuori la coscienza, una questione anche di natura morale, quindi ho messo da parte tutte le mie velleità future, ho messo da parte quella che è la qualità della vita che oggi avevo acquisito, che era una qualità della vita che mi soddisfaceva, ho detto rimbocchiamoci tutti le maniche, e se il popolo di Casamiccio la vorrà, io mi dedicherò anima e corpo per cercare di quanto prima di tornare alla normalità, perché si tratta di quello. Quindi messa in sicurezza, rilancio del paese, rilancio del turismo, ma soprattutto ripresa psicologica di questo popolo abbattuto. E sono certo che se vedrà una guida forte, determinata, con le idee chiare, collaborerà con l'amministrazione per riuscire in questo intento.